Ciao a tutti, sono Vanessa Guicocea e canterò la Tosca e questa Tosca ha tre volti, no? La prima sarebbe la più pia, la più religiosa, la ragazza buona che fa delle cose che deve fare, no? La seconda sarebbe un po' più come se fosse ubriaca, un po' pazza, no? Fuora, un po' fuori di testa quando decide di uccidere a Scarpia. In questo momento penso che Tosca è la vera Tosca, quella violenta, quella che ha la forza per fare quello che ha deciso di fare. E la terza, dentro di questa follia che è nella sua testa, anche diventa una Tosca molto sognatrice, no? Il fatto di aver uccidere a Scarpia fa che lei sta creando un mondo, un mondo di amore, di realismo dentro di questo sogno. Tre Tosche in una. Volevo anche ringraziare al maestro Daniele Gatti, anche a Massimo Popolizio. Sono stati molto, molto, molto umani con me, abbiamo lavorato tanto musicalmente anche sulla regia. Ci sono delle cose bellissime e una Tosca, diciamo come un film bianco e nero. E come no, dire anche grazie all'orchestra di questo teatro che è meraviglioso e il coro anche enorme. Allora vi aspetto a tutti per le recite, vedrete che è una Tosca meravigliosa. Vi mando un bacio enorme.